Salve a tutti, io sono Barbara Casavecchia, di lavoro scrivo prevalentemente. Mirko Rizzi, passo a lui il microfono per raccontarsi. Ah, subito. Mi chiamo Mirko Rizzi e dirigo uno spazio in Milano, si chiama Marselleria. Oggi la nostra chiacchierata si svolge nel deposito d'arte italiana del presente. Questa sezione è letteralmente quello che il suo titolo dice, cioè è un deposito di arte italiana. In questo caso l'anno di partenza è il 94 e l'anno d'arrivo è l'anno in corso. L'idea di creare un deposito di arte italiana è un'idea del 1967 che nasce a Torino quando un gruppo che è formato da un mecenate come Marcello Levi e un gruppo di galleristi di cui fanno parte sia Sperone, sia Castelli, credo, e tanti altri. Poi riuniscono attorno all'idea di creare una collezione permanente e impermanente, dura un paio d'anni, le opere degli artisti contemporanei, degli artisti giovani che lavorano a Torino in quegli anni per trovare loro uno spazio che sia al di fuori dei circuiti espositivi e di altre situazioni. Quindi si inventano una sorta di spazio terzo in cui mostrare quello che sta succedendo in diretta, in tempo reale con quello che succede. Il 67 è ovviamente un anno importante per la storia dell'arte italiana. Nasce a tutti gli effetti il movimento dell'arte povera con la pubblicazione di un articolo famoso di Germano Celan su Flash Art che è nato pure nel 1967, quindi la rivista diventa subito il veicolo dell'arte italiana d'assalto e molte cose si muovono attorno a quell'anno. Quindi per un verso è passato mezzo secolo nell'arco del quale moltissime cose sono cambiate. Sono arrivati in Italia i musei di arte contemporanea, sono arrivate anche le fiere di arte contemporanea e adesso la fiera rifà un'operazione che potrebbe fare un museo e forse ci potremmo anche interrogare tutti quanti sul perché alcune cose succedono oggi all'interno delle fiere alziché in altri contesti. In ogni caso quello che c'è all'interno di questo spazio che ricrea anche didascalicamente c'è il deposito che è il posto dove le opere d'arte spesso e volentieri vivono senza vedere la luce per molto tempo, nascoste o riposte affettuosamente dentro le casse ma non alla portata dello sguardo di tutti, prende di nuovo vita. Ci sono opere dal 1994 che è l'anno in cui è stata creata la fiera ad ora. Il modo col quale con Mirko ieri abbiamo deciso di provare a organizzare questa chiacchierata è anche molto spontaneo, nel senso che entrambi per ragioni diverse e speculari conosciamo bene anche da vicino tanti di questi lavori e chi li ha realizzati e in ogni caso apprezziamo il fatto che ci sia uno spazio dentro la fiera che dà visibilità poi si può discutere insomma di quanta visibilità ci vorrebbe ma comunque a quella che è la produzione dell'arte italiana di questi anni che sono comunque appunto quelli nei quali un sistema è cresciuto, si è sviluppato e ha preso tutt'altra forma. Possiamo iniziare probabilmente qui proprio da vicino dall'ingresso dove siamo con un lavoro dell'inverno muto, è un lavoro molto particolare già dal suo aspetto in realtà questo è un lavoro su un altro lavoro, un lavoro fatto su un'opera di rotella loro sono intervenuti appoggiando appunto questo copricapo e hanno reinterpretato questa operazione l'inverno muto hanno caratteristiche abbastanza singolare nel panorama dell'arte contemporanea italiana fanno da ponte tra tante culture underground e appunto contemporanee e poi arrivano a formalizzare quindi dei lavori che a loro modo racchiudono vari linguaggi e varie espressioni della contemporaneità, questo credo che sia forse la loro caratteristica una delle caratteristiche più interessanti. Sì, approfittando del fatto che ci sono, cioè c'è un loro lavoro recentissimo in esposizione ad una galleria della fiera che è Pink Summer, se volete quando abbiamo finito questo giro vedere un lavoro di inverno muto che non sia questa scultura anche abbastanza piccina ed è un lavoro video, potete vederlo direttamente. Giustissimo l'intervento, infatti come diceva Barbara è un lavoro video perché stiamo appunto parlando di questa loro capacità di utilizzare diversi media e linguaggi in una rappresentazione che è molto ad ampio spettro questo devo dire che nella contemporaneità personalmente è un atteggiamento che apprezzo molto e ci sono proprio artisti che riescono a cogliere questo fatto lavorando magari in maniera meno ossessiva sulla produzione del singolo pezzo e sul ragionamento singolare e riescono invece ad oprire degli orizzonti anche a collaborazioni che è un altro aspetto molto interessante della contemporaneità, della cultura contemporanea riuscendo anche a porre l'attenzione su qualcosa che di solito rimane piuttosto in ombra rispetto alla cultura più diffusa, più conosciuta quindi diciamo tutta questa serie di elementi creano proprio nell'inverno muto una caratteristica secondo me molto interessante. Io faccio il sottotitolo Inverno Muto è un duo sono Simone e Simone sono due artisti con base prevalentemente a Milano che si occupano sia della produzione artistica e lavorano anche molto come musicisti indipendenti e insomma hanno quell'ampio spettro di cui parlava Mirko qui è ovviamente come vedete poi all'interno di ogni scaffale ci sono molte cose, molte cose diverse questa è un'opera di Giuseppe Gabellone del 2000 è ovviamente una cassa che sta dentro un deposito e quindi direi completamente chiusa su se stessa quello che succede all'interno di questo spazio è anche che si vedono almeno due o tre generazioni di artisti italiani quindi da come dire tra virgolette padri perché poi insomma come Cesare Viel di cui si può vedere un lavoro in quel punto ha invece lavori molto molto più recenti per cui è un'occasione per percorrere una storia dell'arte italiana recente che è oggettivamente abbastanza difficile vedere e questo è un commento del tutto personale ma è difficile trovare un museo italiano che rifaccia quasi lo stesso lavoro ci sono delle presenze ovviamente a Rivoli, al Maxi e in tante altre istituzioni ma è piuttosto difficile ricostruire una cronologia puntuale magari ci sono delle presenze o delle emergenze ma questa sorta di ritratto collettivo di più generazioni è un po' latitante è un lavoro recentissimo di Diego Marcon che è stato selezionato per il premio Maxi e quindi prossimamente arriverà a realizzare un lavoro per il Maxi di Roma mi prendo io un minuto per parlare di un lavoro che a me è molto caro i pensatori di Buchi di Diego Perrone un lavoro che mi ha accompagnato per molto tempo non solo perché conosco bene Diego e come succede con gli artisti propri coetanei se si scrive si finisce poi per condividere dei pezzi lunghi anche di vita e consuetudine ed è un po' anche quello che fa Mirko perché Mirko alla Marselleria invita gli artisti a realizzare le mostre e mette loro a disposizione quello che serve per andare in pubblico almeno ci prova però insomma si finisce per diventare abbastanza vicini quanto meno questo è un lavoro che Diego realizza nel 2002 è una serie fotografica è anche uno dei suoi lavori che a un certo punto diventano molto visibili diventa quasi l'immagine del suo lavoro come succede ad alcuni artisti che vengono sempre associati a quel dato lavoro quel dato momento, quel punto della cronologia questo è un lavoro che credo sia entrato anche in collezioni di musei americani importanti è il Guggenheim perché insomma c'è un momento all'inizio degli anni 2000 nel quale l'arte italiana ed è la generazione di Diego Perrone quella di Giuseppe Gabellone che ha una documenta si potrebbero fare altri esempi ma solo perché sono i primi due in cui siamo inciampati sembra spiccare il volo e raggiungere una visibilità internazionale di altra natura in realtà è anche un momento nel quale poi alcune fragilità strutturali cioè del modo col quale in Italia l'arte viene prodotta, promossa e poi anche collezionata fa sì che insomma non segua una crescita ma quasi un momento di ridiscesa rispetto a quella fase ma in questo lavoro i buchi che pensa Diego io ho provato a scriverne insomma più di una volta sono tanti a mio avviso cioè il 2002 è dire quello che arriva dopo il 2001 che è l'anno dell'11 settembre che bene o male finisce per essere una non lo so, una data generazionale come è capitato a tanti insomma è una specie di spartiacque che divide le cronologie e nel pensare i buchi che non sono solo insomma dei buchi fisicamente aperti nel terreno credo che Diego rievochi tante cose anche la relazione per esempio con la produzione artistica delle generazioni precedenti ho la sensazione di aver perso un legame con una fetta della propria storia è anche una generazione quella di Diego e dei suoi amici e colleghi di cui fanno parte in tanti Deborah Rigorio Lara Favaretto Stefania Gallegati che prende, fa le valigie e parte quindi a volte anche proprio uno sradicamento concreto cioè si perdono i contatti con il proprio paese o il proprio paesino perché in questo caso Diego viene da un paese vicino ad Asti ma insomma in campagna e ci si muove in un'altra direzione che è di tutt'altra natura e quindi forse si sente anche questa vertigine del sentirsi sull'orlo di un baratro e poi vabbè secondo me insomma gli anni 2000 sono state anche anni nei quali la politica in Italia ha prodotto alcuni crateri e in questo lavoro tutte queste cose non vengono esplicitate ma secondo me sono molto presenti anche emotivamente non c'è solo questo lavoro è una serie di fotografie in questo caso la foto è deserta in altre c'è invece la presenza di persone sono uomini prevalentemente giovani e nudi che fanno delle contorsioni complicate quasi nel tentativo di adattarsi o di trovare una posizione accettabile in quel punto ed è emotivamente una serie non lo so per me è significativa e poi il fatto che abbia scandito tante presenze di quel decennio perché è finita in tantissime mostre ogni volta veniva letta con uno spirito lievemente diverso non lo so secondo me è un'opera importante prima avevamo già accennato a un artista una ragazza Beatrice Marchi e nello specifico di questo lavoro che devo dire molto speciale perché pur avendo una presa di posizione forte al suo interno una scelta molto forte sicuramente è decisa come può essere appunto un po' il lavoro molte volte anche strano scusate lo dico io perché secondo me lui è timido si parla di sesso non era tanto quello la scelta forte era proprio il volere coinvolgere nello specifico delle sue non per forza coetanee ma comunque amiche persone con cui collabora artisti di più modi artiste di varia natura nel senso non per forza così identificabili in un'unica tipologia di arte e nella collaborazione per produrre questo oggetto questo che è il libro perché però libro mi sembra poco comunque un oggetto che recchiude appunto tante tensioni e questo è proprio anche del lavoro in generale di Beatrice questo nello specifico mi sembra particolarmente rappresentativo come anche parlavo un po' per l'inverno muto prima particolarmente interessante secondo me quando oltre al lavoro di per sé nello specifico nella produzione del singolo oggetto si riescono ad allargare le tematiche le collaborazioni i circuiti quindi creare delle energie molto più spesso molto forti ecco si aggiungo il titolo faccio sempre la didascalia vivente si chiama Susi Kulinski and Friends è un lavoro che va dal 2015 al 2017 come diceva Mirko Bea ha chiesto ad una serie di artiste di regalarle ciascuna un disegno formato a quattro col quale raccontasse una propria visione immagine relazione con la sessualità e il sesso nei modi più liberi cioè non c'erano indicazioni particolari da questo lavoro era nata anche una mostra in uno spazio indipendente di Milano che si chiama Fanta il bello degli artisti giovani è che spesso li trovate al di fuori dei musei più grandi quindi ho delle gallerie più immediatamente visibili ed è uno dei piaceri dell'andarseli a scovare anche in questo contesto e in quell'occasione invece aveva proprio allestito sullo sfondo di una sorta di carta da parati che poi non era veramente una carta da parati ma copriva completamente lo spazio tutti questi disegni ed erano quindi distribuiti all'interno di quel luogo e adesso è diventato un libro e è un oggetto collezionabile quella era una mostra e via di seguito ma quello che continua a succedere insomma è che l'arte continua a riprodursi ci sono artisti molto giovani e non sempre è così facile appunto andarli a ripescare all'interno di una programmazione ufficiale quindi io faccio sempre molto il tifo per gli spazi indipendenti perché credo che svolgano un ruolo super importante qui ce ne sono dei pezzi ci sono giovani di varia natura che fanno i curatori non studiato finito di recente di studiare via di seguito insomma quel lavoro che fa sì che poi le cose arrivino ad un'ultima destinazione che è quella del museo della collezione privata o della grande mostra in galleria viene dissodato da molte cose che lo precedono e credo che sia a mio avviso uno degli spazi nei quali ancora molte cose succedono e magari avrebbero bisogno di un po' più di attenzione o sostegno punto di vista personale qui troviamo un artista probabilmente diverso da per alcuni aspetti a Beatrice o a diverno muto è una pratica forse da un certo punto di vista anche un po' più classica come approccio nella fattispecie Francesco è un artista molto importante perché seppur contemporaneo racchiuda quasi la magia dell'artista classico proprio dell'impegno della dedizione della perfezione del risultato lo fa anche con un certo umorismo estetica e approccio molto gradevole voglio dire come in questo caso e come altri suoi lavori quindi secondo me è un artista che è molto importante per per capire le varie nature e possibilità che ci sono e sono in corso nel contemporaneo italiano di altissimo livello no no non volevo interromperti era solo una curiosità tu hai mai collezionato il lavoro di Francesco mi chiedevo beh no collezionare è una parola un po' strana comunque non ho un lavoro di Francesco in questo senso però in qualche modo ne ho tanti perché credo che la caratteristica dei lavori poi oltre che i pensieri sono delle immagini e delle emozioni che ti lasciano quindi devo dire che Francesco è uno che mi ha lasciato tante emozioni diverse emozioni ed è ben presente diciamo pur non essendo fisicamente in un mio luogo in una mia casa contatto e quindi diciamo lui ha un approccio veramente molto preciso e puntuale a cui aggiunge una vena anche di umorismo e di atteggiamento non troppo formale ma il tutto veramente diventa un risultato piacevole estremamente contemporaneo che richiama delle anche non magari troppo per forza impegnate intellettuali e riflessioni ma ben 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 strutturate e con la propria visione molto interessante sì penso che Francesco abbia un approccio super concettuale per quanto riguarda moltissimi passaggi la forma persino le percentuali come in questo caso 3.3% un lavoro del 2004 e anche una riflessione attorno alla forma e a come la si costruisce a che cosa sia molto raffinato in ogni caso la familiarità di cui parlavamo prima secondo me poi prende tante forme cioè si assume una certa familiarità con il lavoro di un artista se lo si vede in tante occasioni per esempio qui magari di lavoro per ogni artista ce n'è uno ed è sempre un modo un po' surreale di confrontarsi con la ricerca di qualche d'uno ma è anche una familiarità che si costruisce nel tempo cioè io se mi guardo attorno vedo un sacco di presenze so che mi appartengono che fanno parte del mio patrimonio visivo sì sì è un album di famiglia qui alle vostre spalle volevo farvi leggere questo lavoro di Italo che non ha veramente bisogno di commenti il testo che ovviamente è ironico performativo provocatorio eccetera 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 ma mi sembra uno di quei lavori che all'interno del contesto del deposito dell'arte italiana come dire un proprio punge il dovuto quella torre velasca è un lavoro di Luca Vitone degli anni 90 si chiama Wide City lo dico perché adesso c'è una mostra di Luca Vitone al PAC di Milano e anche ai chiostri di San Teustorgio non capita spessissimo di vedere mostre di artisti italiani mid career e quindi è anche una bella occasione quello era un lavoro realizzato appunto per quello che era un vecchio spazio che si trovava dove adesso c'è il museo del novecento ed era uno dei primi lavori con i quali Milano faceva i conti Milano lo dico perché Luca è un artista genovese che però in quegli anni abitava a Milano e quindi conosceva molto bene la città e aveva fatto una mappatura di quelle che erano le presenze straniere in città sono anche anni nei quali per esempio la Lega insomma diventa con un grande cambio insomma di prospettive il partito al potere in città e Luca fa una mappatura molto semplice a tappeto per settori culturale merceologico ci sono i ristoranti cioè c'è un po' di tutto delle tante presenze e poi la trasforma in una cartina molto semplice una mappa che viene distribuita gratuitamente però non all'interno della mostra sì anche all'interno della mostra ma lo si trova non so all'ufficio turistico della stazione centrale lo si trova all'ufficio turistico di Piazza Duomo e quindi chi visita la città si ritrova per le mani l'opera di un artista che neanche dice insomma che quella è un'opera ma dà uno sguardo sulla città che è completamente diverso da quello insomma dell'iconografia dei monumenti e via di seguito e per anni io ho visto persone girare con questa mappa per andarsi a cercare i ristoranti etnici eravamo in epoca pre-internet e ovviamente quello era un distributore cioè le mappe si potevano prendere ed era ovviamente la torre Velasca che era una delle opere architettoniche insomma è un po' una delle firme della città e della sua modernità insomma o comunque e questo invece è un lavoro di Massimo Grimaldi del 2010 il titolo è Emergency Surgical Center Ilaria Alpi in Battabang Photos Shown on the Apple iMac Massimo Grimaldi ha realizzato questo lavoro in più occasioni ha da molti anni una relazione con Emergency che è un'organizzazione non governativa che immagino conosciate per la quale ha lavorato e continua a lavorare ad una serie di progetti ha fatto di questo il proprio lavoro ma in modo molto speciale perché da un lato invitato a partecipare ad una serie di premi e concorsi come insomma succede a volte ai giovani artisti ha sempre presentato quasi lo stesso progetto col quale diceva se assegnate questo premio a me io destinerò la stragrande maggioranza dei fondi che mi vengono riconosciuti alla realizzazione di un ospedale e poi la parte del mio lavoro sarà documentare in parte quello che succede in quel luogo e ogni volta Massimo l'ha sempre presentato su questi ultimi modelli di iMac iphone non mi ricordo phone ma in ogni caso ogni volta iWatch anche mi dice Simone me ne goi ogni volta è l'ultimo modello ovviamente a distanza di pochi anni l'ultimo modello non è affatto più l'ultimo modello anzi è una macchina che invecchia con una grande velocità e che a volte non si riesce neanche più ad aggiustare perché dopo dieci anni persino le parti sostanziali sono scomparse ogni volta usa il doppio schermo cioè non c'è mai un'immagine sola che riesca a raccontare o documentare in maniera precisissima e l'estetica le immagini i colori le inquadrature la post produzione che realizza sulle foto è quella che assomiglia di più al linguaggio delle immagini commerciali del stock images o di altre cose e quindi c'è da un lato questa distanza c'è anche una resistenza fortissima nei confronti di che cos'è il reportage e di che cosa cioè fatto come e con quale intento e con quale spendibilità e a volte sono immagini del tutto sorridenti a volte sono immagini molto dure ma c'è sempre una cura incredibile sul modo col quale l'estetica viene messa in gioco e che ti costringe a ragionare su come alcune immagini vengono prodotte diffuse consumate o trasformate in stereotipi dalla comunicazione e niente quindi sono proprio felice di poter raccontare il lavoro di Massimo qui Pennacchio Argentato è un altro duo e devo dire che già il fatto del duo spesso secondo me crea un dialogo interessante perché ti costringe comunque infatti spesso e volentieri devo dire mi trovo interessato al lavoro che nasce dai due artistici o più intanto credo che rappresenti una bella modo di interpretare il linguaggio più contemporaneo proprio nella forma nell'estetica e nella capacità appunto di trasformare un messaggio in una forma qui abbiamo sempre allow your heart to fill with love until it's overflow sì sono sempre i titoli spesso sono anche romantico e che infatti magari potrebbe sembrare strano rispetto a un'opera contemporanea e con questo tipo di estetica però è proprio queste anche particolari incroci che si creano anche degli interessantissimi momenti di riflessione cioè come fare a trasportare da un linguaggio romantico a un oggetto così è che tenerone no credo che sia anche come succede a tanti artisti di generazioni vicine il tentativo di passare da un'immagine che è liquida come quella che scorre sugli schermi ad un oggetto solido che tuttavia ha come dire anche un corpo molto sottile perché poi è quasi fatto unicamente del proprio supporto e quindi anche tutta quella liquidità che sta dentro l'immagine che sta anche in tutte le emozioni del titolo e via di seguito però racconti anche molto della nostra relazione con il guardare le figure o le immagini ora in cui è facile vederle correre scorrere scivolare o smaterializzarsi e ogni volta uno ci prova a trovare un contrappeso a quella mancanza di una fisicità grazie mille per questo walkie talkie per il giro è stato molto bello grazie davvero grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti